Convalidati gli arresti per i 10 ultra dell'Avenza e della Massese coinvolti nella rissa in strada dello scorso sabato. Il giudice ha però disposto l'obbligo di firma e non i domiciliari come chiesto dalla procura. Il provvedimento riguarda 7 tifosi di Carrara e 3 di massa tutti tra i 30 e i 50 anni che sabato scorso poco prima del derby tra San Marco e Massese allo stadio di Avenza, un quartiere di Carrara. Si sono dati appuntamento in una strada residenziale con bastoni, bombe carta, cinghie e fumogene. Gli ultra, riconosciuti attraverso filmati e testimonianze, dovranno presentarsi alle forze di polizia al sabato, la domenica e lunedì e in occasione delle partite di calcio del San Marco, della Carrarese e della Massese. Il processo è stato fissato il prossimo 26 di gennaio.